Manuale per i prossimi cento anni di nome e cognome col tuo nome e cognome in copertina. Cosa bolle in pentola? Sono Fulvio Dominici Carnino, presidente del movimento Estensione Vita. Abbiamo inviato praticamente a tutti il radar longevasco e adesso molte persone stanno aspettando il fantastico manuale per i prossimi cento anni di col nome e cognome in copertina di ogni singola persona. Il software, il sistema di intelligenza artificiale che lo produce è pronto e quindi ci siamo detti possiamo cominciare a spedirlo alle persone nel formato digitale. Nel frattempo però sono emerse altre possibilità, molti avrebbero piacere di averlo stampato su carta, quindi come un vero libro rilegato e chiaramente questo è complicato perché dobbiamo stampare un libro che non è sempre uguale. Essendo un manuale per la persona specifica, quello che avrà la copertina con Mario Rossi avrà anche dei contenuti diversi da quello che sarà invece per Francesca Bianchi perché l'intelligenza artificiale, sulla base delle vostre risposte alla fine dell'intervista, va a creare un manuale differente, con una differente lista di sostanze, di integratori e un differente ordine di importanza. Quindi questi manuali non sono affatto tutti uguali, sono uno diverso dall'altro e quindi richiedono una tecnica di stampa differente, dobbiamo stamparli e rilegarli come dei veri e propri libri, ma non ne possiamo fare mille e tremila copie come si fa con un libro normale, non solo tutti uguali. A questo punto abbiamo pensato, beh certamente non possiamo sobbaccarci noi il costo di stampare decine di migliaia di libri, ma se chiediamo dei soldi alle persone per avere il libro stampato, in quale scatola glielo spediamo? Lo mandiamo in un'anonima busta di Pluribol come fanno la maggior parte delle persone in giro, la maggior parte delle aziende, fa triste. Quindi abbiamo pensato che tipo di packaging, che tipo di contenitore potrebbe essere l'ideale e che cosa si potrebbe mettere in più oltre al libro all'interno per aiutare le persone in questo loro percorso di anti-age. È chiaro che il libro è la parte importante, però attorno al libro ci potrebbe essere tutta una scatola con tutta una serie di cose interessanti, gadget, prodotti, sistemi di test, magari analisi da fare a casa e così via. Tutta questa cosa la stiamo studiando, stiamo pensando di realizzare qualcosa che sia una fase 1 in cui le persone si allineano prima di cominciare poi ad andare nei gruppi di acquisto eventualmente, se vogliono, o facendo da sé comunque cominciare tutti i mesi a assumere gli integratori previsti. E quindi questa prima mappa iniziale, questa specie di Google Maps degli integratori, è quello su cui stiamo lavorando adesso. E come sarebbe vestito? Cosa arriverebbe a casa delle persone? Beh, chiaramente chi optasse per il manuale gratuito, mandato in formato digitale, quindi un PDF, arriverebbero dei file che l'utente poi potrebbe stamparseli con la stampante dell'ufficio, di casa, quello che è. Però si tratta di un libro di centinaia di pagine, è tanta roba da stampare. Chiaramente se si vuole ricevere il libro stampato, che cosa arriverebbe a casa? Beh, abbiamo lavorato su qualcosa di interessante. Quindi questa è la scatola delle meraviglie, che contenebbe non soltanto il libro, ma tutta una serie di altre cose. Quindi qua all'interno avremmo il libro e altri prodotti, e addirittura questa scatola la stiamo studiando per avere anche una parte posteriore, dove ci sia una serie di altre scatole più piccole, che poi vi racconteremo a cosa servono. Quindi è una cosa molto particolare, per questo ci sta di nuovo volendo tempo, abbiate pazienza. È qualcosa di molto bello che stiamo producendo, di molto particolare, secondo me sarà un grande prodotto ed è qualcosa di diverso da quello che c'è in giro. Ovviamente solo per chi vuole o chi non vuole, chiaramente può ricevere gratuitamente il manuale, stampare quello, non stamparlo, guardarla solo sul telefono, non c'è problema. Ma certamente questo sarebbe un qualcosa di più, che ha tutta una serie di cose dentro, però molto particolari, che di nuovo non si trovano in giro. Quindi ci vuole ancora un po' di pazienza, ma non molto, adesso vi racconteremo a breve come si fa ad entrare all'interno di questo tipo di progetto e come fare a ricevere o il manuale gratuito in formato digitale oppure stampato e con tutta la scatola attorno. Questo poi comunque vi sarà offerto in maniera automatica con una comunicazione che arriverà a tutti quelli registrati. Quindi non è ancora successo niente, arriverà a tutti la proposta, però prima faremo dei video dove racconteremo in che direzione andiamo, che cos'è, di cosa si tratta, quali sono le opzioni possibili, le vedremo insieme e vedremo quali sono anche i costi associati, perché ci piacerebbe regalarlo a tutti, ma decine di migliaia di persone moltiplicato per un costo di produzione di decine e decine di euro diventano subito delle cifre significative e purtroppo non ce lo possiamo permettere. Quindi chiederemo alle persone di pagare il prezzo di stampa, il prezzo base sono di stampa della carta, dei materiali correlati e cercheremo di fare qualcosa che non sia visto in giro con tutta una serie di cose, un kit di avviamento all'estensione vita che è molto particolare, molto mirato, con la possibilità di essere qualcosa di estremamente preciso per ciascuno, anche a livello quantitativo, a livello di esami specifici. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al movimento estensione vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile, basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con Whatsapp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che il movimento estensione vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi intenti con nessuno, quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarà il tuo a decidere se e cosa assumere, parlandone sempre con il tuo medico di fiducia, perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questo lavoro si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di guaderci la vita. Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age e dell'anti-invecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente, quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube, in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo scrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con colore ai quali tieni di più. Mi fa personalmente molto piacere leggere i commenti, partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento, noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto, grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Per il momento è tutto, lunga vita e prosperità. Noi ci teniamo davvero a te. Noi ci teniamo davvero a te. Noi ci teniamo davvero a te.